Nello splendido scenario del Palazzo dei Figli di Cambio, a Palazzo di Assisi, per Cambio Festival, in quella che è la location principe di un festival storico per il nostro territorio, per la città di Assisi. Sono con il presidente di Cambio Festival, Francesco Raspa, e con il direttore artistico di Cambio Festival, Carlo Bosco. Per noi di Assisi News, per me, direttore di Assisi News, è un onore essere qui. Da anni viviamo il festival, lo raccontiamo, lo sosteniamo. Francesco Raspa, che significa, dopo due anni di stop forzato, dovuto alla pandemia, tornare ad organizzare, a vivere, a realizzare un festival così importante? Allora, innanzitutto, un ringraziamento a te, Stefano, che da anni ci segui, e un saluto a tutti gli spettatori di Assisi News. Per noi, dopo due anni duri, insomma, è stata una sfida ricominciare. Un po' di giorni fa un amico mi ha detto, ma, tra virgolette, chi ve lo fa fare? Ce lo fa fare la passione per la nostra musica, per il nostro festival. E questa sfida, cerchiamo sempre, ogni anno, di rinnovarla, perché crediamo nei valori che si porta dietro il Cambio Festival, e crediamo che dare valore al territorio sia una cosa importante, perché noi, dal 2018, abbiamo iniziato una formula itinerante, che ci ha visto toccare tantissime location del territorio, e anche quest'anno abbiamo reintrapreso questa strada. Cambio Festival è soprattutto passione, è un ringraziamento particolare da parte mia, va a tutti i ragazzi, tra virgolette, ormai abbiamo 50 anni, però, insomma, ci fa piacere chiamarci ragazzi di Cambio Festival, che lavorano alacremente, con tanta professionalità, alla realizzazione del festival. Va un ringraziamento particolarissimo al Comune di Assisi, al Sindaco Stefania Proietti, un ringraziamento speciale agli assessori alla cultura Veronica Cavallucci e al turismo Fabrizio Leggio, che sostengono il festival in maniera importante. E un ringraziamento fondamentale va anche a tutti i nostri sponsor, in particolar modo a Franco Cicogna, SEO di Pegasus 2000, e a tutti gli altri sponsor che potete trovare nella nostra brochure e nel nostro sito internetcambiofestival.it. Carlo Bosco, un festival edizione 2022, partito alla grande, con un bellissimo e significativo concerto di Ramberto Ciamaruchi. Sì, sì, in una notte d'inverno Francesco, il nostro presidente, ebbe questa idea meravigliosa di fare questo concerto in mezzo ai filari di Lavanda e Al Tramonto, per cui abbiamo pensato a qualcosa che potesse completare questa meraviglia. E un piano solo era l'ideale, completava questa cornice. Ramberto è un personaggio, Ciamaruchi è un personaggio che riesce a esprimersi al meglio attraverso un piano solo, dotato di un background musicale gigantesco che è completo attraverso la conoscenza di quello che è la storia del cinema, del teatro, essendo anche autore, tra l'altro, di teatro. E dotato di una poetica e di un'anima che non ha limiti e confini, per cui ci ha regalato un concerto di una poesia incredibile, ed è quello che noi cerchiamo di fare ogni volta all'interno del festival, di creare empatia tra noi e il pubblico. Noi ci sentiamo anche parte del pubblico, nel senso che lo sentiamo molto vicino a noi e cerchiamo di dare delle emozioni diverse rispetto ad altri concerti, cioè quelle emozioni che tornando a casa ti lasciano ancora un po' di pelle d'oca addosso. L'essenza di Cambio Festival è il motivo per il quale i tanti spettatori che vengono ad assistere a questi bellissimi concerti appunto devono venire. Assolutamente sì, assolutamente sì, perché è musica particolare, quella che viene definita world music, anche se è un'accezione talmente grande che è difficile definirla, però comunque è musica particolare e noi all'interno del festival ci vogliamo inserire, ci siamo inseriti con grande serenità e modestia in questo nuovo genere fortemente emotivo che ogni anno cambia e cambierà attraverso nuove idee. Un festival che, come ricordava il presidente Francesco Raspa, ha allargato i suoi orizzonti ormai da anni, sono qui con due protagonisti assoluti che fin dalla fondazione dell'associazione che organizza il cambio festival sono appunto, mi ripeto, protagonisti e hanno visto una crescita esponenziale di questa manifestazione. Quest'anno anche nuove location, si torna da Sisi Centro Storico, ora magari ce lo dirà a chiare lettere Francesco Raspa, e la collaborazione importante perché le sinergie cittadine, noi che informiamo sul nostro territorio lo sappiamo, con tante associazioni del territorio. Sì, innanzitutto tengo a dire una cosa importante, noi abbiamo lo spirito come associazione di una proloco, ovvero nessuno dei membri dell'associazione riceve alcun compenso, ognuno mette il proprio lavoro e a volte investe anche i propri soldi, è per questo che qualcuno ci dice chi ve lo fa fare, ce lo fa fare perché ci piace, ci piace, ce lo fa fare la passione per fare una cosa bella che resta. Abbiamo iniziato per gioco 22 anni fa e poi il festival è diventato qualcosa di importante e di riconosciuto e questo ci inorgoglisce un po'. A proposito di spirito da proloco, noi abbiamo tante collaborazioni, ad esempio con la proloco di Palazzo di Assisi, con il CVA, sempre di Palazzo, con la Misericordia, con la parrocchia di Palazzo, con la società sportiva, con la proloco di Rocca Sant'Angelo, che andremo a visitare il 13 agosto, con Padre Massimo dell'Abbazia di San Pietro, ma anche una collaborazione importante con la scuola Punto Assisi, che si occupa appunto di artigianato artistico, cercando di dare nuova linfa a questa importante arte assisana, ora il Punto Assisi, e poi abbiamo anche attivato una collaborazione con Fulvio Angeletti, il Piccolo Teatro degli Stabili, e ospiteremo qua una sua mostra, che è stata già esposta durante l'evento, caduto da sempre in omaggio a Pierpaolo Pasolini, a cent'anni dalla nascita. Quindi ecco, questo è lo spirito, lo spirito collaborativo, lo spirito di fare le cose insieme, regalare delle emozioni, come diceva Carlo, ai nostri spettatori, che ci seguono sempre molto affezionati. Ricordo un attimo quelle che sono poi le date successive a 22-23, che saremo qui alla Castello di Palazzo di Assisi, saremo il 3 agosto appunto in Piazza San Pietro, con un omaggio a Lucio Dalla, di Beppe Servillo, Natalio Mangalavite e Vigirotto, e poi il 13 agosto saremo a Rocca Sant'Angelo, con Chiara Pettirossi e Federico Giri, con un omaggio all'amore da Dante in poi. Ricordo semplicemente un attimo le date del 22-23-24, poi Carlo ne parlerà più diffusamente. Il 22 abbiamo un omaggio a Frida Kahlo, molto bello, con Israel Varela, che è un po' l'istrumentista tra i più grandi sulla scena mondiale, accompagnato da altri quattro musicisti sul palco, di livello internazionale, una ballerina di flamenco, Nazareth Reyes, e alla voce, insieme a Israel, Selena Brancale. Il 23 invece avremo Mario Rodriguez Quintet con Roberto Gatti e la collaborazione di un progetto che abbiamo chiamato Negli Anni Change, con i DJ Franco B, Max P e DJ Cup. E poi il 24 luglio saremo sempre qui al castello con tre gruppi nuovi, emergenti, uno si chiama Rio Sacro, un altro Babi Sabi e un altro ancora Sgominare l'Impuro, che hanno tra l'altro da poco iniziato le loro incisioni e sono molto curioso di sentirli perché mi hanno detto che sono davvero davvero bravi. E chi meglio del direttore artistico di Cambio Festival edizione 2022 ci può brevemente spiegare cosa troveranno gli ospiti e le persone che verranno a vedere questi grandi artisti di cui Francesco Rappo ha fatto una carrellata e sono vere e proprie spettacoli di arte musicale. Beh sì, uno dei motivi per venire il 22 Israel è un compositore batterista e cantante. È una voce stupenda in questo progetto dedicato alla grande figura della donna che era Frida Kahlo. Di solito queste cose artistiche danza e musica non sono mai molto complete sono abbastanza staccate tra loro. Invece Israel ha fatto un progetto eccezionale in cui veramente c'è sempre questa natura molto empatica. Ricordo che circa due mesi fa ci chiamò e disse che voleva portare Serena Brancale a cantare da noi per capire chi è Serena Brancale Q, ovvero Quincy Jones che è il signore che diversi anni fa andò da Michael Jackson e gli disse vogliamo fare un pezzo che si chiama Thriller poi gli disse un altro facciamo Bad poi ha fatto We Are The World eccetera uno dei più grandi produttori esistenti al mondo circa due mesi fa si è esposto ha detto ho sentito tramite un bassista americano la voce di Serena Brancale ed è eccezionale allora tutta la critica si è come dire incuriosita questa è una seconda ragione e poi vabbè il tributo a Frida Kahlo è eccezionale e poi c'è Nazareth che è una ballerina di flamenco straordinaria sarà una una bolla completa di arte e di trasmissione di emozioni da non perdere sicuramente poi ecco abbiamo il secondo appuntamento Change con Franco B DJ Cup e Max P tra l'altro artisti del territorio esattamente che conosciamo ormai da tempo e Roberto Gatti è un percorso di vista molto bravo è perugino ma non perché sia perugino ha una come dire una accezione provinciale ma ha fatto questo disco in cui ha chiamato a suonare dei musicisti mostruosi provenienti da tutto il mondo uno di questi si chiama Horacio il Negro che conosce la musica insomma ha suonato con Sant'Ana ha suonato con i più grandi adesso è diventato un leader per cui e hanno suonato gratuitamente per lui su questo disco che presenterà al festival insieme a Mario Rodriguez e altre tre giganti e poi abbiamo l'incontro con Peppe Servillo che per me sono dei grandissimi amici e la cosa particolare è che mette in evidenza la grandezza della musica di Lucio Dalla perché la musica di Lucio Dalla permette di essere reinterpretata e omaggiata in maniera fantastica in diversi contesti e certo siamo molto curiosi perché la musica partenopea di Peppe e la musica argentina tireranno fuori delle cose molto interessanti e poi questo evento con Chiara e Federico Federico Giri è un altro quest'anno abbiamo casualmente coinvolto diversi geniacci umbri e una cosa molto bella Federico sarà il futuro definito dalla critica internazionale il futuro della fisarmonica jazz internazionale e è bello il posto perché Rocca Sant'Angelo ogni volta molte persone lo scoprono in realtà più conosciuto da artisti stranieri che ne hanno fatto poi degli iscritti su questo addirittura Jorgensen che ha invitato tanta assisi ha parlato di Rocca Sant'Angelo quindi insomma e poi ovviamente i gruppi che noi una volta chiamavamo emergenti però ormai sono gruppi molto bravi per cui una bolla di sapone un ricettacolo musicale a tutto tondo insomma deciso poi la cosa interessante che voglio dire comunque io sono direttore artistico sono portavoce artistica ma comunque tutto viene stabilito in grande serenità davanti a un buon bicchiere di vino l'inverno e scambiando delle idee e tutti decidiamo insieme non c'è mai un leader che decide è quello che infatti volevo chiedere brevemente cosa c'è dietro alla organizzazione artistica alla scelta artistica di un festival come cambio festival guarda le idee sono tante così come una volta qua dentro 23 anni fa decidemmo sarebbe bello fare un festival mentre guardavamo un concerto live di Peter Gabriel poi ironia della sorte il batterista ma nunca c'è prima da suonare qua così come una volta dissi ma caspita il mio sogno sarebbe quello di avere il chitarrista di Sting qua proviamo a contattare Tommy Miller quindi noi viviamo dei sogni e sono sempre delle scelte che poi vengono molte vengono messe sul cassetto e poi rivisitate dopo due anni le tiriamo fuori già abbiamo delle idee per il prossimo anno molte idee che non possono essere messe in pratica addirittura anni fa contattai una tale Esperanza Spaulding una cantante americana contrabassista ancora la mail gli iscrissi sono molto contenta sarebbe interessato ti faccio parlare con il manager se non che dopo un mese mi chiama il manager e mi ha detto mi hai chiamato Stevie Wonder a suonare davanti al presidente Barack Obama quindi sarà difficile che venga però se vuoi ti dico qual è il prezzo e non ti dico quello che era il prezzo perché era inaccessibile però ecco insomma sono tutte idee e la fortuna il fatto la passione ci porta a fare belle cose questo è fondamentale per chiudere Francesco Raspa da presidente quale emozione si prova ancora oggi ad essere parte fondamentale primaria di un gruppo organizzativo e nel vivere questo festival e un invito a tutti a venire ad assistere in queste bellissime location a cambio festival 2022 guarda noi abbiamo iniziato che eravamo giovani 22 anni fa io avevo 27 anni 23 anni fa ora ne ho 50 e quando si rifà cambio festival si torna con lo spirito di allora quindi ci si risente un po' giovani a lavandeto mentre stavamo allestendo a un certo punto rimasto da solo e stavamo sistemando le sedie come al solito nostro noi lavoriamo anche fisicamente nell'organizzazione di cambio festival e anche questo il bello e devo dire che in un certo momento nel campo di lavanda da solo mentre rimettevo a posto le sedie ho detto oggi posso essere felice di esserci nonostante la fatica per dire che poi cambio festival ha unito un gruppo di amici per tantissimo tempo noi ci conosciamo da una vita e invece di spendere serate o altro in chissà che cosa a noi ci piace organizzare questo festival che spero insomma il pubblico possa continuare a piacere e che ci possa seguire mi raccomando venite 22 23 24 luglio al castello di palazzo di assisi seguiteci sui nostri social chioccio la cambio festival sia su facebook che su instagram andate a vedere il nostro sito cambiofestival.it e buon festival tutti e grazie grazie stefano e assisi per i ticket francesco raspa per l'acquisto dei ticket per l'acquisto dei ticket è molto semplice basta andare sul sito di cambio festival l'home page si sceglie il concerto e da lì attraverso il link di box hall si compila il form e si acquistano i biglietti il costo del biglietto per Israel Barella e Frida in omaggio a Frida Kahlo è di 20 euro con ridotto a 10 il costo del biglietto per il concerto di Mario Rodriguez Roberto Gatti tra l'altro c'è anche Lorenzo Bisogno un altro mostro del nostro territorio un mostro musicale ovviamente è di 10 euro con ridotto a 5 e il prezzo del biglietto per i gruppi tra virgolette emergenti ma che non sono più emergenti come ben diceva Carlo è di 5 euro mentre abbiamo scelto grazie anche al contributo che ci dà il comune di Assisi di fare due concerti gratuiti quindi quello del 3 agosto a piazza San Pietro con lo sfondo dell'abbazia di San Pietro illuminata tra l'altro e quello del 13 agosto saranno appunto gratuiti comunque bisogna sempre prenotare i biglietti attraverso su prenotazione quindi attraverso il nostro sito internet e noi di Assisi News anche su Assisi Eventi continueremo a raccontare gli eventi del nostro territorio la cultura e questo bellissimo evento che è Cambio Festival che si protrarrà ancora fino al 3 agosto 13 agosto 13 di agosto grazie a Francesco Raspa presidente di Cambio Festival grazie a Carlo Bosco direttore artistico assolutamente sì grazie grazie mille e vi invitiamo a seguirci sulle nostre testate grazie